Su ordine della Procura della Repubblica di Livorno, i militari del nucleo investigativo hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un 47enne, gravemente indiziato di estorsione pluriaggravata ai danni di una nota azienda vinicola del territorio. L'uomo è accusato di aver inviato delle mail criptate con le quali chiedeva il pagamento di 150.000 euro in bitcoin per non incendiare i pregiati vigneti. I vertici dell'azienda non si sono piegati al ricatto e si sono rivolti con fiducia alla stazione carabinieri più vicina, la quale unitamente al nucleo investigativo ha avviato una sofisticata di intensa attività di indagine che, grazie anche alla cooperazione con altre forze di polizia italiane ed europee, ha portato all'identificazione del presunto autore. La vicenda è l'occasione per sottolineare ulteriormente l'importanza di denunciare qualunque tipo di richiesta estorsiva presso uno dei comandi arma dislocati sul territorio nazionale, che fanno della vicinanza alla popolazione il loro tratto distintivo. Grazie. 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 Grazie.